Grazie, grazie Voglio fare un po' di canzoni importanti importanti nel senso quando uno scrive canzoni appena finisci, cioè poi le canzoni che scrivo voglio bene a tutte le canzoni che scrivo però poi ce n'è qualcuna ogni tanto è normale, è fisiologico che ce n'è qualcuna speciale e di solito giuro che ne accorgi appena appena finisci di scrivo se stai a casa o in albergo o dovunque stai in macchina o dove pare quando prendi appunti appena è finito appena finisce quel ciclo mentale o di pancia o di cuore ti accorgi subito che hai fatto una canzone diversa dalle altre che per te è speciale e non sto parlando di lavoro di classifica, di vendite no, no, sti cazzi parlo proprio di affetto di voler bene a quello che fai al lavoro che fai ancora questa per esempio quando l'ho scritta mi sono accorto subito che che era importante talmente tanto talmente importante che l'ultimo disco che ho fatto l'ho chiamato così